ed eccoci qua davanti all'ennesima boiata un nuovo yield farming che vi permette di ricevere 3 per cento ogni giorno sui vostri bnb depositati fino all'ottenimento del 200 per cento ma state sicuri che prima di arrivare al 200 per cento sono già andate a farsi una vacanza con i vostri fondi catalogata giustamente anche su da prada come altissimo rischio ma da sé che questo video non è un sollecito a utilizzarlo ma più che altro un sollecito a starne alla larga e ovviamente la possibilità di ottenere degli affiliati e avere degli interessi aggiuntivi fino al quinto livello attualmente la piattaforma ci va a indicare che ci sono 58 bnb depositati 149 partecipanti vediamo le condizioni degli investimenti dove appunto danno lo 0,125 per cento all'ora quindi un 3 per cento ogni 24 ore più lo 0 1 per ogni 100 bnb sul saldo del contratto più uno 0,1 per cento ogni 24 ore se non si effettuano dei prelievi più con il mantenimento vip lo 0,1 per cento per ogni 10 bnb depositati personalmente importo minimo di deposito 0,01 bnb ovviamente sulla baina smart chain ed ecco qua la fantastica guida di come lavorare con bnb pur se fare un deposito ovviamente a registrare un portafoglio io non lo registrare mai all'interno di una piattaforma del genere quindi non vi faccio neanche una prova di come si fa vedere come si mostra il pannello di controllo perché non voglio collegare il mio meta mask a questo contratto bisogna depositare ovviamente e si andrà di diritto a ricevere questo fantastico bonus di affiliazione dove in base al fatturato delle linee si ottengono dei bonus di riferimento con un fatturato da 20.000 bnb ci riconoscono il 20 per cento 10.000 bnb il 18 per cento 3000 bnb il 16 per cento o semplicemente il 5 per cento con gli affiliati che fanno i primi depositi quindi questa è una piattaforma praticamente neonata e molto probabilmente si farà del marketing di massa all'interno dei social di youtube all'interno dei canali telegram e eventualmente anche dei canali disco perché come avete visto chi si registra e poi crea una squadra che fattura a un guadagno maggiore quindi attenzione quando vi proporranno di utilizzare un'applicazione del genere uno smart contract del genere mi raccomando non accettate non andate a depositare i vostri bnb perché come spesso accade in questi ecosistema i primi che arrivano guadagnano gli ultimi non guadagnano nulla in realtà non è neanche sempre così sono esistiti esisteranno tuttora dei smart contract molto promettenti ma addirittura dopo 24 48 ore chiudevano il contratto e veniva cancellato quindi anche i primi arrivati rimanevano sempre col solito cerino in mano passiamo a un'altra piattaforma un altro smart contract che viene chiamato multi chain miner ci tengo anche qua a sottolineare che tutti quelli che vi presentano del mining online nel 99 per cento dei casi non sanno manco loro che cosa vi stanno proponendo perché il mining online nel virtual mining non esiste sapete benissimo come funzionano le mining farm quali potenze di calcolo ci vogliono per minare delle cripto valute e quindi stata la larga anche da queste cose multi c'è in mine perché va a incrociare diverse cene ad esempio la baina smart chain che vi permette di avere un 3 per cento al giorno con pancake inoltre facendo entrare gente creando la solita rete vi paga un 7 per cento queste sono un esempio ma qui ci sono poi tutte le cene compatibili polygon fanto avalanche quindi andando a vedere questi protocolli vi fa vedere cosa potete minare e quanto potrete guadagnare ma anche qua manco il tempo di dirlo si saranno fatti una bella vacanza ai tropici con i vostri soldi altro smart contest stesso sistema cake energy punto finance dove promette il 6 per cento al giorno di ritorni qua funziona un po simile a una pool dove noi tecnicamente andiamo a depositare i nostri cake ci verranno riconosciuti un contro un valore in power in potenza per andare alimentare le nostre fabbriche virtuali dove poi ci verranno appunto riconosciute delle ricompense bellissimo anche questo dato dove va a indicare i 648 partecipanti totali e poi se andiamo qua in fondo 25 partecipanti totali comunque noi andiamo a depositare dei soldi veri andiamo a depositare i nostri cake e loro ci danno del fumo negli occhi infatti andiamo a vedere le informazioni su power power la valuta del gioco della piattaforma che fornisce i profitti a tutti i partecipanti scambiamo i nostri cake e certo pensiamo dei cretini per power i giocatori vanno a guadagnare la capacità di aumentare la potenza della loro fabbrica e ci dice anche attenzione perché power non è un token ma è un'unità che va a riflettere la nostra quota come se fosse un lp token all'interno di questa piattaforma per farci sentire più valorizzati abbiamo la possibilità anche di avere un conto vip che ci va a dare lo status di premium che ci permette di accelerare tutto lo sviluppo del gioco e i vantaggi sono un più 90 per cento di potere guadagnato utilizzando addirittura il compound più 10 per cento di punti in base a quello che noi andiamo a fare all'interno della piattaforma più 5 per cento delle entrate della rete che andiamo a creare qua abbiamo la nostra fabbrica centrale e ci viene spiegato come funziona il programma di riferimento anche qua inutile dire per piacere non depositate i vostri fondi non vi fate attirare da chi vi presenta piattaforme del genere addirittura possiamo anche pescare una bella presentazione multilingua di questo interessantissimo progetto da poter inviare alle persone che vogliamo convincere per far entrare nella nostra rete ultima delle applicazioni che sono nate sulla baina smart chain fast bnb che vi permette il 3 per cento al giorno sul vostro investimento sito tra l'altro ha anche fatto non molto bene quindi ci hanno messo veramente poco impegno a creare questa piattaforma programma di riferimento primo livello 6 per cento secondo il livello 4 per cento terzo livello 3 per cento e andiamo avanti addirittura fino al decimo livello per un totale del 18 per cento in commissioni addirittura chi ha creato il sito non se neanche sbattuto per andare a inserire un audit eventualmente vero o finto che sia quando ma vedere in che modo ci può far depositare con un investimento a vita l'1,25 per cento al giorno poi abbiamo il cow farming 2,5 per cento al giorno per 150 giorni o lo 0 x farmi al 3 per cento per 90 giorni mi raccomando anche qua assolutamente non depositati i vostri bnb all'interno di questa piattaforma state alla larga da chi ve la propone i vostri bnb all'interno di questa piattaforma stessa in un'altra piattaforma in un'altra piattaforma stessa in un'altra piattaforma potente